Le parole chiave di questo evento? Multidisciplinarità, perché non si può prescindere dalla presa in carico di un paziente oncologico e in particolare di un paziente con tumore della prostata, se non si mettono attorno a un tavolo con al centro paziente vari professionisti con le loro diverse abilità, expertise e tecnologie. Secondo nuovi farmaci, innovazione, questo è il presente e il futuro nelle neoplasie della prostata, la possibilità di un approccio che sia sempre più di precisione, che passi dalla biologia molecolare e arrivi alla possibilità di fare una terapia a target, a bersaglio biomolecolare. Innovazione vuol dire anche nuova tecnologia e da qui il robot, che è di aiuto per gli interventi chirurgici, da qui anche le strumentazioni. Ma l'elemento chiave, la parola chiave per eccellenza è prevenzione. Oggi abbiamo voluto dire agli uomini prendetevi cura di voi e cercate di modificare tutto ciò che è modificabile, che rappresenta un fattore di rischio e guardiamo la nostra famiglia perché anche il nostro albero genealogico ci aiuta a capire e a prenderci ancora più cura di noi.